mamma mia guardate quanto bello è questo rompicapo cioè è veramente fighissimo ciao a tutti ragazzi come state benvenuti in un nuovo video e dato che oggi è martedì benvenuti ad un nuovo rompicapo e come avete visto dalla intro il rompicapo che proverò a risolvere quest'oggi è questo qua ovvero il rompicapo piramide mi è appena arrivato forse da qualche giorno e l'ho aperto soltanto per vedere com'era ma non l'ho toccato l'ho lasciato così sul tavolino e mi sono reso conto che oltre ad essere un rompicapo e quindi scopriremo ora cosa bisogna fare è anche un oggetto veramente veramente bello parto dicendo che questo rompicapo è livello 8 quindi abbastanza difficile e lo scopo è quello di togliere tutte quante le palline e rimetterle nel triangolo che ha una base ma si è scollata probabilmente dopo la incollo e la cosa difficile è che le palline sono tutte quante diciamo attaccate tra di loro e bisogna trovare la soluzione questa sarà veramente difficile quindi senza perdere altro tempo metto subito al tavolo e provo a risolvere questo rompicapo ho aggiustato al volo la base l'ho incollata sembra stabile allora come prima cosa ovviamente faccio partire il cronometro che lascio qua ok vediamo come sono fatti i pezzi allora c'è una pallina doppia oddio questa è strana 1 2 3 e 1 nell'angolo poi abbiamo una con 4 un'altra con 3 una ad angolo e un'altra a 4 3 e 1 allora questa tipologia di rompicapi è quella che più preferisco in assoluto perché devi cercare di immaginarti la soluzione e secondo me sono quelli che ti stimolano di più quindi proverò ad immaginarmi la soluzione se io mettessi per esempio quindi possiamo provare così io partirei così ok metterei questo qua potrebbe essere e poi qua nasce il problema perché vi zoom io farei così al centro secondo voi deve starci qualcosa potrebbe starci questo per niente facile per niente facile credetemi secondo me allora innanzitutto uno da quattro deve stare qua per forza la base poi potrebbe facciamo quello che farei a caso mi ispira non so perché ma mi sta ispirando proviamo ad immaginarcelo qua allora detto che la piramide 4 per ogni lato è un 4 per 4 capito no cioè è alta così quindi questo potrebbe addirittura stare in mezzo ok e si potrebbe creare il contorno proviamo a costruire il contorno capito no cosa voglio dire però non mi convince bello bello mi sta piace astia questo era il mio ginocchio mi sta piacendo mi sta piacendo assai non riesco ancora ad immaginarmi bene il tutto allora è una una piramide quindi deve arrivare circa qua e la cosa difficile è cercare di incastrare questi pezzi si non c'è molto da dire eh raga vi dico la verità tutto quello che so lo vedete anche voi questo non può andare qua al massimo potrebbe andare qua ah ah sì o no questo non ha senso questo non ha veramente senso questo non cambia niente torniamo dalla mia idea proviamo a partire così questo è un triangolo quindi potrebbe partire così no la situazione perché poi la cosa difficile è che queste palline qua non possono andare sopra una pallina devono stare a metà tra le due capito non non può andare a caso e secondo me vi dirò di più c'è solo una combinazione non ce ne sono diverse ce n'è solo una e questo rende questo rompicapo veramente difficile pesante pesante adesso farò un momento di silenzio ragionato non ci si può farли però però non ci sono molto più sentito quindi domicchio non ci sono tutte le due ci sono cose Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Vedi questa poteva sembrare quasi giusta Ma mancherebbe uno strato Non ha senso Cioè qua ti frega Quindi se questo mi frega Togliamo la roba che mi frega Devo pensare ad andare in alto Perché ora sto pensando a costruire il torno giro giro Se io parto dall'alto Se io parto dall'alto Proviamo a partire con i più piccoli nel basso Tutto 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 poteva poteva sembrare poteva sembrare allora ragioniamo bene perché adesso sono partito dall'alto se metto questo qua questo non ha senso questo non ha senso però vedi che anche qua è impossibile perché qua non ci può passare niente guarda questo potrebbe andare qua qua o addirittura questo vedi così deve venire deve venire così quindi questo potrebbe andare qua però poi non c'è spazio per no vedi questo non può andare qua è impossibile ci sono ci sono questo scherzavo non ci sono questo può andare qua allora sì o no e no c'è troppo spazio lì no secondo me non è giusto forse così no perché deve andare a metà della pallina a metà della pallina a metà della pallina se io metto questo qua vedi no ci siamo però c'è tanto spazio qua però questo potrebbe andare qua è così raga ci sono ci sono questo va qua e questo deve andare qua sì sì o no sì o no sembra un giorgio cappello di paglia guarda ragazzi l'ho fatta in 11 in 12 minuti l'ho spaccato perché perché mi sono immaginato la piramide dall'alto cioè ho immaginato di vedere come la vedevo dall'alto e questa è la soluzione raga questo rompicapo qua mi è piaciuto veramente un casino guarda lo rifarei quindi è partire dal basso piano piano tac adesso mi ricordo un po i pezzi sinceramente perché questo questo poteva essere qua questo poteva essere qua e questo poteva essere qua no adesso diversa però adesso c'è un mega un mega spazio in mezzo non so se riuscito a vederlo perché guardalo qua il segreto non so se non si riuscirà mai a notare secondo me ma la dista è di pochissimo di pochissimo l'ho notato adesso questa pallina è più vicina a questa rispetto che a questa fammi vedere credo di sì ma credo di pochissimo quindi devi eccolo lì eccolo lì vedi così è giusta devi metterla dal lato giusto se tu la metti dall'altro lato guarda che roba l'altro lato è questa dall'altro lato non va non va perché fa ultra spazio ed è sbagliato se tu la metti di qua c'era c'era anche un trucco nascosto eccolo qua ragazzi l'ho fatta sono un master che bello bellissimo questo rompicapo mi è veramente veramente piaciuto spero che sia piaciuto anche a voi perché veramente mi ha stupito un sacco bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto io mi sono stra stra divertito uno dei miei rompicapi preferiti sinceramente da tanto tempo che non trovavo un rompicapo così bello che mi desse questa soddisfazione e sono i rompicapi migliori questi perché ti provi ad immaginare la soluzione provi a fare tanti tentativi e poi vedi che cosa succede questo mi è piaciuto parecchio quindi ragazzi se volete vedere altri video di rompicapi vi lascio ovviamente la playlist qua da qualche parte fatemi sapere con un commento se avete qualche nuovo oggetto strano da consigliarmi qualche scatola qualunque cosa e io come al solito vi mando un mega bacio e un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi